Manette e polsi per due giovani, uno di 24 e l'altro di 26 anni, arrestati in flagranza di reato dalla Polizia Stradale di Prato-La Peligna. Uno di loro infatti ha nascosto la droga negli indumenti, nel corso dei particolari servizi di vigilanza in ambito autostradale, disposti in concomitanza con l'intensificarsi del traffico nel periodo estivo nei pressi di Corfinio, il personale della sottosezione Polizia Stradale di Prato-La Peligna ha sottoposto a controllo un'autovettura che transitava su quel tratto di autostrada con andatura sospetta. Gli agenti hanno identificato il conducente per MN di anni 24 nazionalità albanese e il passeggero MG di anni 26, entrambi con precedenti di Polizia. La successiva perquisizione personale ha consentito agli inquirenti di rinvenire un involucro celofanato a forma irregolare avvolto con nastro adesivo di colore nero celato tra l'indumento del passeggero che conteneva sostanza stupefacente tipo cocaina per un peso complessivo di grammi 107,91 e un valore di mercato pari a 20.000 euro. Le successive perquisizioni operate presso le abitazioni degli arrestati hanno permesso di recuperare ulteriore materiale per il confezionamento di sostanza stupefacente. E' tuttora in corso un'attenta attività d'indagine per ricostruire la dinamica dei fatti relativamente alla provenienza e destinazione dello stupefacente sequestrato. I due sono stati arrestati in flagranza di reato e associati presso il carcere di Via Lamaccio su disposizione della Procura della Repubblica di Sulmora.